Allora, un applauso per il giudice Benedetto Augusto Santos. Allora, avanti per cortesia. Pastore Maremmano Abruzzese. Akita Giapponese. Dogo Argentino. Busseron. Weimar Runner. Setter Inglese. Sibri Anaschi. American Staffordshire. Golden Retriever. Bovaro del Bernese. Springer Spaniel. Akita Americano. Colli. Griffon. Bull Mastiff. Schnauzzer. A Kerry Blue Schnauzzer. Whippet. Labrador. Cio Cio. Beardhead. Zerznauzzer. Pepe Salle. Rottweiler. Dash Brack. Cocker Americano. Cocker Spaniel. Inglese. Beagle. Basset Town. Staffordshire. Carlino. Bassotto. Standard. Appelo corto. Nano. Appelo duro. Caninken. Appelo corto. Appelo corto. Ok. Best Juniores. Soggetti fra i 6 e i 9 mesi. Alle loro prime esperienze espositive. Il giudice Santos. Adesso farà una prima selezione. Abbiamo qua i rappresentanti di tutte le razze che abbiamo visto questa mattina in classe appunto Juniores. Allora, il Caninken. Il Carlino. Il Basset Town. Cocker Spaniel. Zerznauzzer. Cio Cio. Whippet. Akita. Akita. Americano. Labrador. Golden. Scusate. Sibri Anaschi. Grazie agli altri. Signori, torniamo indietro. Allora, un giro tutti insieme. I grandi avanti, i piccoli dietro, il Cio Cio. Ok. Pronti? Un bel giro tutti insieme. Un bel applauso per il Sibri Anaschi. Il Labrador. Il Golden. La Kita. Americano. Whippet. Cio Cio. Carlino. Zerznauzzer. Basset Town. Cocker Spaniel. Bassotto. Caninken. Sibri Anaschi. Labrador. Akita. Americano. Whippet. Chol Cio. Chol Cio. C cunning. Grazie. Allora, abbiamo già qua il risponso di questo raggruppamento juniores, al terzo posto premia il giudice Benedicto Augusto Santos, Wippet. Al secondo posto Sibirianaschi. Allora, vince Best Juniores e qui all'internazionale di Ancona Labrador. Allora, vince Best Juniores e qui all'interno di Ancona Labrador. Il giudice sceglierà un soggetto per gruppo che poi andrà nella finale a dieci. Vi presento il giudice, è un giudice italiano, Cesare Calcinati. Grazie. 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 Grazie.